I dati della settimana appena trascorsa sono in linea ovviamente con il calo dei contagi anche nell'agro. La curva scende mentre sale per fortuna quella dei vaccinati. Ormai rodati i punti vaccinali sul piano organizzativo devono fronteggiare adesso la calendarizzazione dei registrati in piattaforma ma non ancora convocati secondo le fasce di età. Ma andiamo a spulciare i dati degli ultimi sette giorni. Balza in testa ai comuni dell'agro per percentuale di vaccinati Rocca Piemonte che raggiunge il 45% della popolazione. Sono 5.599 i cittadini che hanno ricevuto la somministrazione anti covid-19. Anche la città di Nocera Inferiore supera il 40% fino al 29 maggio sono stati 26.974 i vaccinati per il 41% della popolazione. A seguire Nocera Superiore con il 37% pari a 12.374 vaccinati in città Scafati ha vaccinato il 33% della popolazione con 23.120 somministrazioni. A Pagani invece il 32% sono 15.836 i cittadini vaccinati. 30% di vaccinati a San Marsano sul Sarno con 4.114 cittadini che hanno ricevuto il vaccino. Tra open day e convocati da piattaforma va avanti dunque la campagna in tutti i comuni e per domani si dà spazio ai giovani. Il 2 giugno è la giornata dedicata ai maturandi. Tutti i ragazzi che si sono registrati verranno sottoposti a vaccino per sostenere gli esami di maturità che prenderanno il via il 16 giugno prossimo in maggiore sicurezza. A Nocera Inferiore al momento convocati 500 studenti suddivisi tra i centri vaccinali di Nocera Superiore dove afferiranno domani mattina in 150 e del centro vaccinale De Nicola di Via Loria a Nocera Inferiore dove domani pomeriggio a partire dalle 16 fino alle 21 nelle sei postazioni del punto vaccinale a Nocerino si sottoporranno a vaccinazioni anti-covid 350 alunni delle quinte classi. Anche al centro vaccinale di Pagani giornata per i maturandi. Noi per domani abbiamo organizzato una seduta tutta la giornata per i maturandi del nostro territorio ovviamente di Pagani o di qualche studente di Pagani che poi magari va a scuola nei paesi limitrofi. Questa giornata ovviamente in teoria è come se fosse una giornata aperta perché alcuni erano in piattaforma già altri non c'è stato forse nemmeno il tempo di registrarli e quindi non è un open day ma in linea di principio è una giornata dedicata a coloro i quali devono poi sottoporsi e sostenere l'esame di Stato. Dalle 9 domani mattina con una breve interruzione all'orario di pranzo e poi subito dopo fino alle 7 di sera, 8 di sera noi aspetteremo. Credo che questo possa essere fatto anche da altri punti vaccinali ma naturalmente credo che per i nostri concittadini può essere che sia più comodo venire direttamente nel nostro centro vaccinale. Una giornata, un 2 giugno di lavoro per i vaccini allora? Sì, noi in realtà abbiamo stabilito ma un po' tutti devo dire che questa è una fase in cui i giorni festivi per noi sono giorni feriali quindi bisogna lavorare e cercare anzi proprio di sfruttare questi momenti di relativa festività per consentire a chi poi deve vaccinarsi di poter, di non avere problemi di altra natura, lavoro, studio e quant'altro. Avete in mente di dedicare qualche giorno particolare a un patto open day o qualche altra cosa? Noi in realtà abbiamo pensato a fare uno o più giorni dedicati, faccio un esempio, abbiamo pensato di fare un aggiornato o due di Pfizer day. Pfizer day inteso non come un open day proprio per questo, tipico, quello consentito a tutte le fasce eccetera. Ma ovviamente dovremo tener conto che il Pfizer è un vaccino che al momento non è somministrabile a tutte le fasce di età e quindi noi cercheremo di regolarci in maniera percentuale a seconda quindi del rischio e della popolazione oltre 80enne, 70enne, 60enne, diciamo fino ai 40 e dando priorità ovviamente a chi ha una maggiore possibilità di rischio. Quindi precisare, fare chiarezza sui nostri comportamenti e soprattutto su quelli dei nostri collaboratori che non è giusto, insomma, additare come irresponsabili o addirittura come persone che magari si regolano in maniera, come devo dire, anarchica rispetto alle nostre indicazioni. E quindi pensai di fare intervenire i carabinieri per verificare e per spiegare perché ci siamo comportati in un certo modo. Quello che mi preme però sottolineare perché a me piace guardare anche dall'altro lato vedi qualcuno che viene all'improvviso e dice no ma quello è scritto in una lista appena, non appena è semplicemente il lavoro estenuante che fanno questi nostri volontari perché quando capita che il professore Califano deve venire alle 9 di mattina e non è venuto noi per avere certezza che il professore Califano non viene gli telefoniamo più volte e magari o non ha ricevuto la mail o non si è accorto di averla ricevuta e quindi noi eventualmente cambiamo l'ora e la appuntiamo appena come facciamo lì a farlo per via telematica. Quindi chiaramente è naturale che poi verso sera quando abbiamo la certezza che non c'è nessun avente diritto per quel giorno perché gli aventi diritto sono tutti però chiaramente se lo facciamo convocati chiaramente dobbiamo fare quelli. E' naturale che se nel frattempo abbiamo diluito delle dosi sarebbe folle di sperderle e quindi lì per fascia di età, per anzianità noi richiamiamo. Questo ha fatto nascere qualche idea di manipolazione che non c'è perché non c'è il motivo anche perché dal 3 giugno quando la piattaforma e l'adesione sarà aperta a tutti noi abbiamo sicuramente avremo una spinta verso la vaccinazione probabilmente l'avremo anche sulla possibilità di scegliere il vaccino a seconda è chiaro che scegliamo noi non perché l'utente non possa farlo perché in base alle disponibilità di vaccino che avremo poiché li dobbiamo consumare per averne altri e per avere la possibilità di andare avanti e di portarci avanti nel ciclo di vaccinazione noi potremmo anche decidere di somministrare a tutte le fasce di età vaccini più disparati.